Loco, eccoci qua! Oggi andremo a comprare dei Pokemon, ma ci sarà una sfida molto divertente alla fine, che non posso dirti quale. Ok, va bene. Bene, sei pronto? Io vado a spendere subito il mio 100. Sì, guarda, voglio comprarmi questo Charizard e vedere cosa succederà. No, loco. Cioè, loco, scusa, a te che livello ti è uscito? 80. E quanto hai speso? 20 euro. No, no, no. A te che livello è uscito, scusa? Aspetta, scusa, no, 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 all'uno. Loco, non c'è niente da ridere! Si chiama business. Ragazzi, voi per favore lasciate un mi piace per infondere in me un po' di forza e di fortuna. E scrivete nei commenti l'hashtag sono un campione per essere salutati. Ora, abbiamo tutti i 100 qua davanti a spendere, loco, per favore, decidi per me. Vorrei che tu facessi su di me una scelta fortunata, perché qua si è messi malissimo. Devi andare nel 100. Nel 100 o nel centro è diverso? 100. Sono tutti 100, loco! 100 rosso, 100 rosso. Vabbè, vediamo il 100 rosso. Ok, Kyogre, ti prego, almeno tu, almeno tu. Non... Poteva andare meglio, diciamo. Io 40, io 40. Allora, io, primi due Pokémon, entrambi all'uno. Allora, ti mando in quella dell'80. Dai, dai, è l'ultima cosa che ti faccio scegliere, poi ti vengo a prendere a casa, d'avviso, vai. Vai al centro. Al 100, ok. Ok, bam, 80, eh. Solgaleo, mi raccomando. Ok. Bravo, loco. Bra. Come, davvero? Sì, sì, giuro, 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 giuro. Il tuo come è? Mi è incastrato, eccomi. Il tuo come è? Ah, 40. Dai, partiamo finalmente, ragazzi. Un bel Pokémon all'80. Siamo belli che finisci tranquilli. Oh, c'è questo qua gratis! Ma com'è gratis? Io vado in quello a gratis. No, no, fermo, 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 fermo. No, vabbè, guarda, 200. Per te, bravo, vabbè, io avrei scelto quello per te, quindi, ottimo. Vado qua. Eh, ma... Puoi vedere quello a gratis quanto, cosa mi ha dato, per favore? Eh, 80, immagino. No, no, guardalo, guardalo, guardalo. Gussatelo. Gussatelo. All'1? Non te lo mostro neanche quanto è speso. Quanto è speso? 200. Questo è il karma, loco. Io ho due bei Pokémon all'80, posso dirlo? Io ho uno. Ho un Gileser. Ok. Ora, scelgo io per entrambi. Andiamo assieme nel venticentrale. Ma io non voglio venire con te. 1 e 2, pago io per te. Guarda, guarda, ti faccio un offerto. Oh! Allora, vai, prendilo. Non mi dire nulla. Allora, se vuoi, puoi cambiarlo. No, vai, prosegui. Vabbè, ci stava cambiarlo. Dove devi cambiarlo. E secondo me, guarda, poi lo cestino stava qua. E infatti stava lì. Mannaggia, oh! Ah, visto? Ma avrei scelto quello verde se avessi cambiato. Te lo giuro su quello che vuoi. Ora. Io bianco, io bianco, io bianco. Scegli tu per me invece, loco. Dai, vai, vediamo. Allora, io vado nel bianco. Sì. Poi controllo gli altri. Sì, e scelgo io. Allora non vale, non vale che puoi me dire. Dai, allora vai nel verde, vai nel verde. Dai, vado nel verde, dai, vado nel verde. Aspetta 5. Grazie, loco, per farmi andare al risparmio. Vai Archeus. Mamma, al 40. Tu, loco? 80. 80. Mamma, ragazzi, guarda cosa esce fuori dalla porta di qua. Le testa di Re Quasa. Ok, allora, io mi fiderei tanto di questa testa da 200 e Re Quasa, ma... Questo non è convinto per niente. Facciamo così, loco. Tu vai in questa da 200 e tu decidi per me. Questo vai nel 25 che non è convinto per niente. In quello di destra, quindi. Mamma mia, loco, veramente. Uno, due, dai. Vediamo cosa mi dà questo 25 di destra. Mamma mia, loco, guarda qua cosa mi hai regalato. Guarda. Non ti convinceva per nulla, eh. No, il tuo com'è che era? Ma godo, guarda, io sono felice. Quanti Pokémon all'80 hai per adesso, loco? Giusto per fare un recap? Due. Due all'80. Ok, quindi per ora sono io in vantaggio. Ottimo. Ricordiamoci che alla fine campioncini elimineremo due Pokémon della squadra avversaria. interessante come cosa. Ah, non me l'avevi detto. Eh, sì, era questa la sorpresa, era questa, era questa. Ok, mi piace. Ora decido io per entrambi. Tu 100 di sinistra, io 100 centrale. Quindi, vai, spendiamo. Un bello. Iveltal, ti prego. Iveltal. No, l'hai preso il mio. No, 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 loco. L'ho preso, vai. Cestina entrambi, per favore. No, che entrambi. Sono uno cestino, sono uno cestino. È il mio al 10, ragazzi. Il mio 80. Mannaggia, mannaggia. Ti ho chiamato l'Iveltal, quello forte. Ora, chiamalo tu, per favore, a me è un Pokémon forte, loco. Dai, vediamo. Aspetta, devo ascoltare. No, ascolto la potenza. Una volta che hai ascoltato qualcosa, loco, è andata male, quindi. Del verde. Vai del verde. Io lo ho rosso. Eh, Necroz, ma per favore, eh. Per favore. 80! Eh, ragazzi, loco, qua ha fatto la furbata. Hai più Pokémon di me all'80, eh. Hai più Pokémon di me. Io 3. Ora, vediamo come andrà. Vediamo. Qua è dura, ragazzi. Qua c'è da pensare. Devo ascoltare le porte. Quale Pokémon è? Un Reshiram. Ok, ho guardato che Pokémon è dietro. E Reshiram, per me, è all'80 centrale. Quindi, per te, a destra, è il 10. Guarda, te lo chiamo in questo modo. Questo vado? Vediamo. Uno, due e tre. È il... 80! Mannaggia, ragazzi, il mio è il 10. Quanto cosa hai di chiamato il 10. 10 per caso? Sto malissimo, ragazzo. Sto messo malissimo. E ora, vediamo, ragazzi. Vediamo cosa succederà. Qua, quale 5 andrò a spendere? Io vado a spendere quello di destra, loco. No, vado a spendere quello centrale ancora. 5 centrale. Aspetta, fermo. Dimmi, campione. Te lo guardo, io poi cestino, ok? Va bene, mamma, che il Dio comunque lo vorrei cestinare. Ti dico, vuoi cambiarlo se vuoi. No, me lo tengo, tanto è che il Dio. Il 100%? Sì, sì, spostati, spostati. Vabbè, tanto è che il Dio non l'avrei mai tenuto in squadra. Vado a me verde. Sto messo molto male, ragazzi. E sono già gli ultimi due Pokémon. Loco, rischiosa la situazione. Molto. Ora, io vado a destra. Vai. Vado a destra, ragazzi, vediamo. Zygarde, ti prego, sei importante. Cavolo, cavolo, cavolo. Sei importante. Mamma. Io 40. 10. Incredibile, ragazzi. La sfortuna che ho avuto oggi in questa sfida è incredibile. Ora io andrò a sinistra, loco. Perché questo è l'ultimo Pokémon che possiamo andare a catturare. Vai, via. In te, vai. No. Mamma, meno male, meno male, meno male, meno male, meno male. Loco, io ho quattro Pokémon all'80. Poi sono costretto a mettere Groudon al 40 e a questo punto mettere anche Arceus. Allora, ora io adesso mescolo un po' i miei Pokémon e spero che tu mi possa chiamare gli unici due Pokémon al 40. Perché se no è brutta, ragazzi, è veramente tosta. Io spero che tu becchi il mio al 40. Io ora vado a chiamare i tuoi Pokémon. Vai. E ti chiamo il 2 e il 5. Che sono rispettivamente quali Pokémon. Fammi li vedere qua davanti. Non ci credo. Troppameli qua davanti, loco, per favore. Ok. Necrozma. E poi? Il 2. Sono stato fortunato. Uh, però era quasi. Vabbè, dai, ci sta. Eh, lo so. Cioè, sono sfortunato ma sfortunato. Entrambe. Puoi andare a cestinarli. Puoi andare a cestinarli. Ti ho chiamato l'unico al 40, comunque. Tu ora di chiamare i miei 2 al 40, loco. Vai pure. Scegli. Ti dimostrerò il 6. Il 6 e poi? Il 4. Allora. Ti mostro il 4. In te all'80. Sì, buono. Hai tolto il mio primo Pokémon all'80. Ma hai scelto un Pokémon all'40. Ok, ci sta. Mi è andata nel complesso. Mi è andata uguale a entrambi. Perché, scusa, tu hai 4 Pokémon, ma... 4 all'80. Eh, no, io ce l'ho tra l'80 e una al 40, loco. Ok, ma ci siano tolti entrambi uno all'80 e una al 40. Eh, hai ragione. Beh, questa sarà una sfida interessante. Il tuo Pokémon parte già con un po' di vita svantaggiata. Ma non ha senso. Ma per me ha sensissimo, loco. E sono quello già svantaggiato con i Pokémon. Figurati, se devo... Oh, tu non mi attacchi. Non posso farti danno. Molto bene. Invece se ti faccio un po' di danno. Fallo, fallo, fallo pure. Non ti preoccupare, guarda. Ma solarbinte ha tolto pochissimo. Ragazzi. Ragazzi, per favore. Cos'è questa situazione veramente brutta? Neanche vita rossa. No, vabbè, ragazzi. Attenzione, attenzione. Ah, vabbè, vabbè. Punizione. Punizione. Vabbè, ragazzi. Abbiamo capito come dovrà andare questa sfida. Ti metto in campo il tuo simile che ha. E questa mossa che speravo che avesse. Per eliminarti Arcus all'80. Godo. Ok, ora godo un po' di meno. Perché qua... Mi spiace. La situazione è brutta e bassa. Però ci sta. Mamma mia, devastato. Completamente annientato. Ora è la... Fa calmo. Non ho una mossa di tipo volo. Non ci voglio veramente credere, ragazzi. Qua è una situazione proprio ridicola. Però... Hai vinto l'attacco. Farò il possibile io. Vabbè, mi hai fatto un po' di danno. Complimenti, loco. Farò comunque il possibile. Quindi proviamo a vedere se ce la faremo, ragazzi. Vai. Vita rossa per loco. Io sono ancora vita verde. Cosa hai perso, scusa? Ho perso. Perché hai perso? Hai vinto. No, che stai dicendo? Perché l'eliminatore escirà bene? Benissimo. No, ma tu sei veramente uno che bleffa dalla mattina alla sera? Che è molito completamente. Annientato. Non esiste più tu Requaza. Requaza ci ha salutato. Ragazzi, mi rimane palchia. Mi rimane solo e unicamente palchia. Che purtroppo, guardate quanta vita ha perso. Non ha neanche attaccato. Ma cosa è questa situazione? Ma veramente? Non ho parole. Guarda che fa pure... E te ne uccido con Charizard. Fa pure lo sbruffone. Mi cambia il Charizard davanti agli occhi. Ma chi sei? Ma io ti ricordo che sono allenatore di Pokémon di Minecraft. Tu fatti del mondo, loco. Ma che vuoi? Perché è un gioco a fortuna. Vabbè. Con questo Ivelta qua. Campioncini. Noi ci possiamo fermare qua. Non lo voglio nemmeno guardare l'Ivelta di loco. Perché non sono merita. Direi che ci fermiamo qua. Ci salutiamo. Ci vediamo in un prossimo video. Voi lasciate un mi piace. E scegliete quello qua davanti. Ciao.